C'è anche l'Università degli Scartati, un luogo di studio intitolato ad una giovane che perse la vita sotto le macerie del terremoto dell'Aquila, Giulia Carnevale. E' una delle tre sale della Casa della Misericordia inaugurata a due passi dal Senato a Roma, nella Basilica di San Teustatio. Un luogo per coloro che fanno fatica a vivere le categorie fragili della nostra società. Quello che è importante è che tutto questo è stato fatto unicamente con la carità della gente. Credenti, non credenti, italiani, italiani, ecco, certi non abbiamo pagato tutto, abbiamo pagato solo la metà, ma non c'è neanche un euro di contributo pubblico. C'è poi una sala per accogliere i poveri, un centro di aggregazione e di sostegno psicologico e sociale. Una parte è dedicata alla cura della persona con docce e lavanderia. Questa struttura si aggiunge al ristorante dei poveri già attivo dentro la Basilica di San Teustatio. La Casa della Misericordia non è ancora ultimata, mancano ancora dei fondi. Ma Dio provvede, se non provvede Dio ai poveri che ci provvede.